Con profondo orgoglio sono a presentare quella che è l'ottava edizione, un'ottava edizione che da un lato è caratterizzata da grande entusiasmo che ormai questo sport suscita in tutti e dal grande entusiasmo atletico perché il quarto posto delle Olimpiadi ha significato un momento estremamente storico per il movimento. Torino grazie all'attenzione dell'assessore è pronta a ricevere e a celebrare questi atleti che si cimenteranno dal 21 al 26 di gennaio e devo dire che Torino ha sempre risposto con gioia e con entusiasmo a questo evento. L'evento è dedicato a un grande personaggio che c'è Andrea Chiarotti detto Ciaz ed è un personaggio che ha contribuito a creare lo sport disabile e in particolare il Palace Ice Hockey. La novità è che ci stiamo preparando per grandi eventi, la novità è che il nazionale è diventato una grande nazionale, la novità è che siamo pronti per combattere nel campo internazionale e magari prenderci una piccola rivincita. Sì, siamo sempre molto orgogliosi, molto contenti, ottava edizione comincia a essere anche una di quelle manifestazioni che poi entrano a pieno diritto in quello che è il programma annuale degli eventi sportivi che la città propone. Abbiamo anche un quadrangolare di livello, mi dicono anche dal punto di vista tecnico, con nazionali forti, preparate, basta ricordare la Corea del Sud con la quale purtroppo, ahimè, abbiamo perso una medaglia nelle ultime pari Olimpiadi, quindi io mi auguro che la città, ma sono sicuro che risponderà come ha sempre risposto, riempiendo il nostro Palazzo del Ghiaccio. Sicuramente ci sarà fermento, sicuramente è sempre un'emozione, non ricordo più quante edizioni ho giocato ormai, però è sempre un'emozione, soprattutto dovuto alla presenza delle scuole, perché in generale lo sport paralimpico purtroppo ha molta carenza di visibilità e averne così tanta in un evento di uno sport minore come l'hockey, più minore ancora del fatto che sia paralimpico, avere così tanta partecipazione nelle scuole è una cosa più bella, veramente, veramente bella, è dovuto a un lavoro dietro, a un lavoro di ricerca, di promozione in tutte le scuole, a cui anche ho partecipato io, aveva partecipato anche Ciazza, Andrea Chiarotti e altri atleti, quindi è un bellissimo risultato che per noi, come atleti in generale, è una delle cose più belle che si può vivere.